Per inserire un video in CaraFan bisogna procedere in questo modo. Innanzitutto bisogna scaricare due programmi da internet, Kigo Video Converter e Audio Extractor. Si estraggono da Softonic in modo gratuito. Una volta installati i due programmi si procede in questo modo. Si apre Audio Extractor, Add File, si cerca il file video appena scaricato da internet e si evidenzia. Si evidenzia il file mp3 da estrarre, la cartella dove va messo il file. Clicca su Start e aspettare il tempo necessario. Dopodiché con Kigo Video Converter clicca su Add, aggiungere lo stesso file di prima AVI, ok, evidenziarlo, ok, mettere come formato di uscita MPEG 1 Movie e dare la cartella dove si andrà a mettere il file estratto. Convertire e aspettare il tempo necessario. Dopodiché si apre CaraFan Editore. Per prima cosa si apre la libreria, si aggiungono i due file mp3 e video appena creati. Allora, file ricevuti, Audio Extractor, ok, e il file video MPEG. MPEG, ok, anche se il video è con l'audio, l'audio del video non viene considerato. E si chiude. Ok, una volta fatto questo, si clicca sull'icona Lyrics, si cerca nella libreria, il file mp3 appena messo. E dare OK. Poi, basso tasto destro, aggiunge alla traccia Video, ok. Apparso il nome Video, si clicca sulla striscia a fianco e viene gialla. Allora, a sto punto si va in alto e si sceglie il file video MPEG appena trasformato. Allora, se il file video è un file video karaoke scaricato da YouTube, non c'è bisogno di aggiungere altro testo, perché il testo è già sincronizzato nel file video, ovviamente. Quindi il file CaraFan è già pronto per essere salvato. File, salva come. Prova, desktop. E andiamo ad aprire il nostro file per vedere se funziona. Ok. Si alza, si abbassa la tonalità. Si esclude il microfono, perché sennò fa un po' di rumore. Ok. Eccolo qua il nostro file, pronto.